Buona giornata, ve ne diciamo il Signore e preghiamolo con il Salmo che viene proposto per la Messa di oggi, il Salmo 101, un Salmo che guida il fedele a implorare il Signore per quanti sono nella sofferenza. Non nasconderci, Signore, il tuo volto nel giorno in cui siamo nell'angoscia, tendi verso di noi l'orecchio quando ti invochiamo, presto rispondici. Questa preghiera la vogliamo fare per noi ma soprattutto anche per coloro che stanno nel momento della prova e della difficoltà della malattia. Il Vangelo di Giovanni, in quel tempo Gesù disse ai farisei, io vado e voi mi cercherete ma morirete nel vostro peccato, dove vado io voi non potete venire. Dicevano allora i giudei, vuole forse uccidersi dal momento che dice dove vado io voi non potete venire? E diceva loro, voi siete di qua giù, io sono di lassù, voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati, se infatti non credete che io sono morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora tu chi sei? Gesù disse loro, proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho dito da lui le dico al mondo. Non capirono che gli parlava loro del padre. Disse allora Gesù, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora riconoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. Gesù sta insegnando nel Tempio, siamo sempre nel contesto della festa delle capanne, è una frase che pronuncia proprio uno scompiglio tra le persone che gli sono attorno. Gesù dice dove vado io voi non potete venire. Questa frase è misteriosa e come tante altre volte i discepoli ma anche la gente non lo comprende perché Gesù dice cose nuove dal momento che il suo sguardo sulla realtà è completamente nuovo. Non dice mai parole scontate. I giudei interpretano la frase dove vado io voi non potete venire in questa maniera. Forse vuole uccidersi. Ecco perché non possiamo andare dove va lui, perché si vuole suicidare. Non è un pensiero molto benevole che hanno verso Gesù. Più avanti addirittura diranno che è un indemoniato. Quanta distanza c'è tra la logica normale del mondo e la logica nuova che Gesù viene a portare. Eppure in maniera ironica, se vorrebbe dire Giovanni, hanno colto in parte un frammento di verità della parola di Gesù. È vero che Gesù con quell'espressione vado e dove vado io non potete venire, parla della sua morte. Ma non come suicidio ma fondamentalmente come un andare al padre. E dice inoltre che finché non credono in lui per i giudei è impossibile seguirlo verso il padre. E qui si scontrano come due modi di vita e di pensiero, di stile di vita. E anche due conseguenze, due esiti che questi stili di vita hanno. Da una parte c'è l'esito e lo stile di vita di chi è nel mondo. E cioè di coloro che non alzano gli occhi al cielo. Questo è il pericolo dei giudei. Che in fondo hanno tante anche relazioni, hanno anche azioni buone, ma fondamentalmente sono soli di fronte al proprio destino. Ed ecco che quando giunge la morte, la morte è la morte nel peccato. Perché se chi, se non si ha speranza, se non in questo mondo, la morte viene a chiudere ogni futuro. Gesù invece dice io non sono solo. Io non vivo in questo mondo ripiegato su questa realtà. Io sono sempre unito al padre. E chi sono io, dice Gesù? Chi sono io? La mia identità è proprio quella di dire e fare ciò che sento dal padre. Ecco l'annuncio poi esplosivo che viene come a spiegare queste parole di Gesù. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora voi saprete che io sono. La mia identità profonda e quindi anche il senso della mia frase dove vado io, voi non potete venire, si capisce guardando il momento in cui io sarò innalzato. Ed è evidente che Gesù qui parla della sua croce, ecco, del momento in cui va, in cui se ne va da questo mondo. Ma perché la croce è innalzamento? Perché noi cristiani continuiamo a metterlo come un segno della nostra fede? Quello che già San Paolo diceva è una follia. Quante persone dicono ma che senso ha avere una croce come segno? Non è l'immagine di uno sconfitto, di un sofferente, di un condannato? È evidente che oggi siamo invitati a scoprire l'identità profonda di Gesù proprio partendo dal momento della sua innalzamento. La croce infatti per San Giovanni, per Gesù è un momento di gloria. Essere innalzato non vuol dire soltanto che Gesù muore a due metri dalla terra, ma che quello è un momento di innalzamento, di gloria, come quando si dice ha fatto carriera e è salito in alto, per dire appunto uno che ha avuto un momento di gloria. Ecco, per Gesù quello è un momento di gloria, la croce. Perché? Si comprende proprio come quella frase, alla luce della frase che ha detto all'inizio, è il momento in cui io vado al padre, nel momento in cui sono abbandonato da tutti, nel momento in cui sembro sconfitto, lì diventa più evidente che io sono grande, non perché cerco la mia gloria, cerco la mia riuscita, ma perché lascio tutto il posto al padre. Sono là perché amo il padre e perché amando il padre amo radicalmente anche i miei fratelli, fino a non trattenere la vita per me, ma per darla. Ecco, io credo che oggi l'invito sia proprio quello di contemplare la croce e dire oh Signore aiutami a comprendere quel mistero, a comprendere innanzitutto che la croce rivela che anche nel momento più difficile, tu hai forza perché non sei solo. In un momento precedente alla passione, quando aveva annunciato ai discepoli, ecco voi mi lascerete tutti, tutti andrete via, mi lascerete solo, ma poi ha aggiunto ma io non sono solo perché il padre è con me. Ecco, io credo che oggi la proposta di meditazione, di preghiera è proprio contemplare la croce. E sentire quale forza nasce nella vita quando siamo capaci di non chiudere il nostro orizzonte in questo mondo, ma siamo capaci di alzare gli occhi al cielo, di riconoscerci come persone in cammino verso il padre. Questo ci aiuta a fidarci, a non aver paura e anche ci aiuta a spenderci per gli altri, perché sappiamo che tutto poi è raccolto in questo viaggio verso il padre. C'è un rito particolare nel venerdì santo, quando la croce velata, in tre momenti viene svelata. Ecco, ripercorriamo oggi questo esercizio, guardiamo la croce e domandiamoci un po' alla volta che cosa vuoi dirci Signore con questo segno? Aiutaci, oh Signore, a riconoscerti come colui che è in compagnia del padre e per questo è annunciatore di salvezza anche per noi.